Allora, due notizie importanti oggi, già live sulla blockchain di Tron, la stablecoin algoritmica USDD, ma il rendimento del 30%, ossia la possibilità di mettere in stake e generare le reward partirà solo dal 12 di maggio. Qui ci sono i vari address perché non sarà solo possibile acquistare USDD su Tron, ma anche su Binance Smart Chain, su PancakeSwap e Ethereum, su Ellipsis. Sulla blockchain di Tron sarà poi possibile farmare e generare queste reward particolari sul sito di SunSwap.com. Per chi non fosse pratico di Tron, occorre scaricare un wallet perché non è compatibile con Metamask, per esempio TronLink, che è un'estensione come Metamask, e poi la cosa bella della blockchain di Tron, a differenza di altre blockchain, che se andate sul sito di TronScan, collegate il vostro wallet alla sezione risorse, potete, cliccando su Optane, potete mettere, frizzare, congelare dei Tron per avere in cambio la larghezza di banda e l'ener, power e l'energia. Con larghezza di banda, ma soprattutto power and energy, non pagate nessuna commissione per andare a fare le vostre transazioni. Chiaramente più Tron mettete in stake e maggiori transazioni giornalmente potete fare, io per esempio ne ho attualmente 20.000 in stake e posso fare dalle 5 alle 6 transazioni al giorno sulla blockchain senza pagare nessuna commissione. Questa è una prerogativa della blockchain di Tron che in realtà pochi sanno e che la rendono una delle migliori blockchain in realtà come applicazione d'uso perché si può utilizzare praticamente senza pagare le commissioni. Ora abbiamo anche questa fantastica stablecoin al 30% con stablecoin algoritmica che appunto dà questi rendimenti come nessun'altra stablecoin algoritmica. In questo momento vedremo come si svilupperà nelle prossime settimane. Oggi anche il prezzo di Tron è salito anche perché maggiore sarà la richiesta di questa stablecoin, maggiori TRX verranno bruciati, un po' come è stato per, come sulla blockchain di Terra Luna per i token di Luna e quindi vedremo anche se il prezzo di TRX salirà nelle prossime settimane. L'altra notizia importante del giorno è che Evmos ha dato un airdrop. Evros è una blockchain proof of stake scalabile costruita su Cosmos ma è anche interoperabile con Ethereum, un totale di 100 milioni di Evmos sono stati airdroppati in questi giorni e le wallet elegibili erano tutti coloro che hanno utilizzato prima del 25 novembre 2021 al momento dello snapshot la protocolli su Cosmos ma non solo, anche le dApp di Ethereum come Uniswap, OpenSea, DYDX, SushiSwap, Aave, Bridge, come poi anche Arbitrum, Polygon, quindi Matic chi è stato vittima di alcuni hack proprio sulla blockchain di Matic e quindi ora quello che c'è da fare è verificare se siete elegibili inizialmente prima cosa dovete aggiungere, se già non l'avete fatto, a Metamask la chain di Evmos quindi per esempio potete andare su chain list, digitare Evmos e qui vi danno già tutti i dati cliccate su Connect Wallet e automaticamente verrà aggiunta al vostro Metamask poi una volta fatto questo viene già automaticamente con un faucet airdroppato 0.001 Evmos per fare la prima operazione di claim dell'Airdrop per esempio l'Automatic Market Maker di Evmos è di Fusion se andate alla sezione Claim, Diffusion e Airdrop vi caricherà, adesso io ho già fatto il claim e vi consiglio di fare uno speed up delle fee quindi aumentare un pochettino i way per far sì che la transazione vi venga approvata oppure l'alternativa è andare al sito app.evmos.org e collegare il wallet e poi dovete cliccare su Claim per esempio nel mio caso ho ricevuto 94 Evmos e di questi non ho già fatto il claim di 47 cliccate su Claim e il primo 25% viene dato subito un altro appunto che fate il Claim io il primo 25% l'avevo claimato dalla MM di Fusion poi un 25% ulteriore l'ho ottenuto andando a votare su una proposal di governance semplicemente cliccate qui su Vote e poi vi rimanderà al link della governance dove in questo momento si può votare per aumentare il deposito minimo per la governance oppure se trasferire il spazio per i validatori su un altro wallet dovete cliccare su questi link votare sì oppure astenervi potete anche astenervi o cliccare no o no con veto insomma questi sono dei passi semplicissimi per ottenere un ulteriore 25% di Evmos se poi un altro 25% lo ottenete mettendo in stake i vostri token andando quindi ad affidarli a dei nodi validatori e infine dovrete eseguire un transfer e questi sono i passaggi per ottenere completamente il vostro airdrop qui appunto è la sezione stake dovete cliccare su view validator e poi qua potete scegliere uno dei validator che attualmente sono disponibili vari questa è la commissione un 5% abbastanza standard e poi dovete cliccare qui su manage praticamente il gioco è fatto attualmente Evmos vale 3 dollari 80 ho avuto oggi un calo del 5% anche perché tanti stanno andando a fare il claim dell'airdrop una settimana fa valeva oltre 6 dollari io personalmente non li sto vendendo li andrò a mettere in stake e vedremo poi tra qualche mese o magari un anno a che valore saranno arrivati attualmente appunto 96 circa 100 euro sono circa 380-400 dollari di airdrop bene questo era tutto per le due notizie principali di oggi il lancio della stabilità algoritmica su Tron e l'airdrop di Evmos Grazie a tutti